Ilari Blasi ha deciso di portare Francesco Totti in tribunale, accusandolo di abbandono di minore, un reato che potrebbe costargli fino a cinque anni di carcere. La questione riguarda la figlia minore della coppia, Isabel, che secondo la denuncia sarebbe stata lasciata sola in casa dal padre. Secondo quanto riportato dal messaggero, l'accusa di Ilari Blasi è scattata dopo che la showgirl ha scoperto che il padre non era con Isabel una sera di un anno fa. Tuttavia, la difesa di Totti sostiene che la polizia, giunta sul posto, avrebbe trovato la babysitter a casa, suggerendo che potrebbe essere stata lei ad allontanarsi, forse per pochi minuti, proprio durante la telefonata della Blasi con la figlia. Nel frattempo, durante il processo di separazione, la giudice Simona Rossi ha stabilito l'affido condiviso dei tre figli della coppia. Il reato di abbandono di minore è perseguibile d'ufficio e prevede pene da sei mesi a cinque anni di carcere. I PM dovranno ora accertare se la bambina fosse realmente sola in casa o se fosse presente un adulto al suo fianco. Nonostante ciò, il padre ha l'obbligo di non lasciare sola la figlia nei giorni in cui è sotto la sua tutela. Se dovesse essere confermata la versione di Totti, secondo cui la babysitter era presente in casa, l'ex capitano della Roma potrebbe presentare... ... 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